Siamo partiti con un nucleo di aziende che non arrivavano alle 25 insegne associate. Oggi siamo arrivati a 60, questo perché evidentemente siamo stati in grado di dimostrare anche l'utilità e la forza che riesce ad avere un comitato che unisce le voci che altrimenti sarebbero state isolate e disperse, le voci di ogni operatore, di ognuno di noi. Come l'abbiamo misurata questo valore, questo riscontro positivo? Per esempio dalla possibilità di avvicinare l'istituto di credito ricevendo un'attenzione delle premure che diversamente forse gli saremmo scordati, anche con l'importanza avuta nei rapporti con le istituzioni. Questa forma associativa ci ha permesso di avere anche accesso a dei contributi che ci sono arrivati da soggetti privati e anche soggetti pubblici, e che voglio ancora ringraziare. Per esempio parlo della filarmonica Luigi Mancinelli che ci ha devoluto l'incasso di un concerto pubblico, anche un partito politico che ha dato un contributo che era residuo dell'organizzazione di un evento preelettorale. Non faccio il nome del partito per ovvi motivi, visto che siamo in fase preelettorale, privati cittadini come per esempio il signor Gabriele Spallaccia, un ragazzo che oltre a essere attivo nella comunità come membro della protezione civile, membro volontario della protezione civile, è anche un organizzatore di feste per bambini e ci ha appunto anche lui fatto il regalo questa contribuzione che derivava dall'organizzazione di questa festa carnevalesca. Gabriele Spallaccia mi ricorda di assolvere anche un debito che ho con la città. Nel mio intervento di lunedì scorso, fra i ringraziamenti che ho porto alla città, a quella parte di città che ci è venuta a aiutare, che è stata veramente importante e veramente, devo dire, che ci ha emozionato, bene, quei ringraziamenti ho forse dimenticato quelli che sono stati fra i più criticati all'inizio, appena l'alluvione si è verificato, ma che oggi, a mente un po' più fredda, dobbiamo considerare diversamente. E cioè quei 70 volontari della protezione civile che si sono dedicati nelle notti precedenti e nelle notti successive a cercare di, in qualche modo, di evitare che il peggio accadesse. Forse, dobbiamo scordarcelo, ma forse il fatto che non ci siano stati lutti a Orvieto dipende proprio dal fatto che ci sia stato vietato l'accesso alle nostre abitazioni, alle nostre aziende in certi momenti. Non lo so, questa è una ipotesi che io, alla quale io credo personalmente, non pretendo che tutti la condividano, ma probabilmente è così. Che c'è da dire? È vero, 70 persone non potevano farvi granché. Li abbiamo visti poco, ma perché loro stessi erano, diciamo, il loro organico non poteva far fronte alla enormità di quello che è successo. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Evidentemente, loro non erano all'altezza della situazione, ma non per le loro capacità personali, non per la loro volontà, ma per il loro numero e per le dotazioni di cui disponevano. Per cui voglio ringraziarli ancora e mi scuso con loro per non averlo fatto prima. Alcuni di noi hanno imboccato una strada che è di verifica tecnica delle cause che hanno determinato, delle varie concause, anzi, che hanno determinato l'evento alluvionale e un accertamento di quello che è lo stato attuale del fiume Paglia, dell'alveo del fiume Paglia. Perché? Perché ovviamente l'alluvione ha comportato una modifica totale anche di quelli che erano i limiti di scorrimento del fiume, che erano proprio i limiti litorali e come tale anche quelli devono essere ridefiniti. e in base a questi rapporti noi cercheremo di capire quali dovranno essere le opere di manutenzione e di ripristino da effettuare e quali quelle per la messa in sicurezza. La governatrice Marini ci ha illustrato credo in modo abbastanza puntuale quello che è l'ITAR per l'ottenimento da parte della Regione dei fondi stanziati dal governo e diciamo la prevista il previsto l'ITAR per la ripartizione di questi fondi in opere di ripristino e di messa in sicurezza delle aree alluvionate. Non parlo a questo punto solo di Orvieto naturalmente ma parlo di tutti quei comuni Umbri, Marciano, Lerona, Alviano che hanno subito danni e di quella parte che invece dovrà essere prevista come risarcimento alle aziende. Credo che quel consiglio abbia avuto la capacità di fornirci in brevissimo tempo una tale diciamo quantità di informazioni che diversamente avremmo ottenuto veramente con fatica e con diciamo il rischio di perderne qualcuna per strada perché perché la situazione è comunque complessa e devo dire che lì c'è stata una una bella esposizione che ci tornerà utile. La disponibilità della governatrice Marini mi sembra assolutamente assolutamente massima. Pensate che nel giro di una settimana la vedremo tre volte capisco che diciamo il clima elettorale porti tutti a essere più disponibili però credo che sia anche per noi sia un'ottima occasione per approfittare di questa disponibilità e non vogliamo assolutamente come si dice pregiudicare quello che invece ci torna comodo. La cosa che ancora oggi voglio chiedere a tutti è la possibilità se qualcuno ce l'avesse disponibile di farci arrivare copia di foto o video o documentazione dell'evento che è avvenuto il 12 novembre. può tornarci comodo innanzitutto per quello che potrebbero essere relazioni tecniche che stiamo preparando ma anche per un evento multimediale che stiamo organizzando probabilmente per il 19 di marzo per la festa patronale della città in cui appunto faremo non una conferenza perché le cose troppo professorali non ci interessano ma soprattutto una presentazione di quello che è successo con delle foto con dei filmati e di quello che e di come potremmo invece vivere diversamente l'area fluviale nel momento in cui dovesse essere bonificata e adattata a parco urbano.